Si avvicina alla solennità in onore del fondatore e patrono di Castellabate San Costabile Gentilcore, seguendo i protocolli anticontagio, il sacerdote della comunità parrocchiale di Castellabate d'Oroberto Guida, in collaborazione con il comitato festeggiamenti San Costabile, ha predisposto in forma ridotta le celebrazioni liturgiche. Quest'anno la ricorrenza verrà posticipata di un giorno, poiché nel 2021, il 17 febbraio, coincide liturgicamente con il mercoledì delle ceneri. Le celebrazioni si svolgeranno domani, 18 febbraio, alle ore 11 nella Basilica a Castellabate, con la solenne cerimonia eucaristica presieduta dalla sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. La Santa Messa inoltre sarà trasmessa in diretta televisiva dall'emittente Cilento Channel, canale 636 del Digitale Terrestre e i Smart TV. Quest'anno è un programma che con Don Roberto, detto che il Presidente, il nostro parroco Don Roberto Guida e Don Antonio, abbiamo voluto spalmare a carattere squisitamente e fortemente religioso. La festa solenne, squisitamente religiosa, sarà giovedì 18, dove la Messa del 18 sarà ripresa dalle telecamere di Cilento Channel sul canale 636 del Digitale Terrestre. Quindi anche questo è un modo per entrare nelle case per tutte le persone, perché dovremmo fare gli ingressi contingentati in chiesa, quindi saranno i posti riservati alla capienza della chiesa. Quindi è un messaggio che noi vogliamo lanciare a tutti gli abitanti di Castellabate, tutti i castellabatesi sparsi nel mondo che seguono Cilento Channel, attraverso i nostri canali di comunicazione. La Messa sarà trasmessa alle ore 11 dalla Basilica di Castellabate con il Vescovo Ciro Miniero per la Solemnità di San Costabile 2021.